Mi chiamo Julio, nome strano spagnolo che mi viene dallo zio argentino perché ho metà famiglia che vive in Argentina e sono cliente di Mediolanum da tantissimi anni, direi da una decina credo sono cresciuto con Mediolanum sostanzialmente sono stato felice della mia scelta e non vedo motivo di cambiare io poi sono sempre stato molto tecnologico, appassionato di computer, di informatica per cui non mi trovavo bene allo sportello gli strumenti sono quelli un po' tecnologici, quindi computer, telefonino per usare sia il sito della banca, le varie applicazioni quindi sono stato uno dei primi a sperimentare la piattaforma di trading in banca è un rapporto innanzitutto personale di amicizia con Lea non è solo la mia family banker, è la persona che mi sta a fianco è la persona che mi segue, che mi conosce personalmente che sa esattamente tutti quelli che sono i miei problemi, i miei limiti, le mie situazioni, il mio patrimonio e quindi mi assiste, mi segue vede che sono un po' troppo distratto, penso un po' troppo al mio lavoro e un po' poco ai miei soldi le decisioni le devo sempre prendere io, nel senso che la family banker ti può dare delle idee, ti può dare dei suggerimenti ma ovviamente la decisione finale aspetta a te l'ultima volta che ci siamo visti, ci siamo visti da lei nel suo ufficio di solito verso le 8, 8 e un quarto del mattino ci troviamo perché siccome io mi sveglio sempre alla mattina alle 5 allora le dico per favore ricevimi alla mattina presto così poi ho tutta la giornata a disposizione, non perdo troppo tempo passiamo un'oretta, un'oretta e mezza a discutere di tutte le nostre cose del più, del meno io la mia family banker la devo andare a trovare insomma, non è che posso solo starli attaccato a un computer io lo trovo un giusto mix, ripeto, tra tecnologia e persone nel senso che da un lato mi dà la possibilità di fare direttamente le cose che nelle altre banche ero costretto a fare con l'operatore dello sportello perdendo del tempo, invece io me le faccio da casa quando ho tempo, quando ho voglia la mia banca è sempre con me tutto il giorno, 24 ore al giorno io nella mia banca ci credo, i miei soldi so che sono lì al sicuro anzi, sono cresciuti nel tempo, per fortuna e per me avere una banca solida significa avere una banca fatta di persone affidabili oneste, banca Mediolanum ha un indice di solidità tra i più alti del settore a me era sicura insomma a me era sicura